Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo video di The King of Games, qua il vostro Alexino di fiducia Oggi però a presentarvi i nuovi prodotti 151 di Pokémon In particolare faremo un po' una carrellata di prodotti partendo da questo bellissimo ETB di Pokémon Che dentro ha un sacco di oggetti utili per iniziare comunque sia a collezionare che a giocare Pokémon Ma senza ottenere in dolci io vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare la campanella degli avvisi Per rimanere sempre aggiornati su tutti i video di The King of Games E adesso intanto, quindi oggi apriamo un ETB Poi apriamo ovviamente la collezione con poster con le tre carte promo di Charmander e Squirtle e Bulbasaur E la fantastica collezione di Pokémon 151 con raccoglitore Quindi anche questa molto molto utile per chi vuole iniziare a collezionare Così avete già un paio di bustine e un raccoglitore comunque Ovviamente il raccoglitore dà mi sembra 260 tasche 360 tasche, grazie mille Tutte quante ovviamente con la tecnologia anti-sleep quindi non mi fanno scivolare le carte Ma senza ottenere in dolci andiamo a spacchettare Quindi questo qua è il nostro bellissimo ETB con dietro tutto quanto quello che si può trovare all'interno Ma andiamo a aprire, vediamo se devo smadonnare Potere delle forbici, vedi a me Perché se no qua stiamo fino a domani Abbiamo dei fisici ridicoli e non riusciamo ad aprire la plastica Eh, ma è che fanno delle plastiche molto resistenti E' un plastica fisico che ha sollevato le carte Fa voglia Allora quindi ovviamente abbiamo in solito la solita guida al giocatore Questa volta in carta 100% riciclabile Quindi se dovete tenere tutto quello a mente Qui comunque c'è tutto quello per spiegarvi come giocare eccetera E tutto ovviamente nella collezione delle carte Quindi ve le potete segnalare tranquillamente qua Poi andiamo a aprire il nostro ETB Abbiamo ovviamente la scatolina Con i divisori per le carte Abbiamo poi ovviamente le nostre energie Un bellissimo Snorlax promo Questo qua ce l'avrete in ogni ETB Questo assicurato Le monetine per veleno e scortato I dadini E ovviamente le bustine protettive Regaliamo anche il codice Regaliamo anche il codice Questo qua è un codicino che ve lo regaliamo Così avrete un ETB direttamente nel vostro gioco Ma partiamo con la ciccia Ma spagnolo ha fatto un ETB leggermente più piccolo come scatola? No, in realtà è abbastanza simile a quegli altri Solo che penso che confondo un pochino per il fatto che è bianco Ma vabbè Quindi partiamo con i nostri belli pacchetti Di Pocon 151 Mi raccomando Vi ricordo che tutti questi prodotti li trovate nel negozio Quindi affrettatevi perché vanno veramente a ruba Spiro, Raiorn, Magikarp, Oddish, Raticate Invito di Erika, Magneton, Slowpoke, Seal e Raichu Energia Buio E la struttura dei pacchetti Segue quindi tutte quelle di scalato Quindi avete tre foil a pacchetto Che possono essere o una reverse O una holo o superiore Ma soprattutto che possono anche pullare una mazza Perché mi sembra che sia un'espansione Che ci regala le cose a piccole dosi Sì sì però diciamo che quelle Oh Nidrofia Questa carta qua è sorprintatissima Non ne abbiamo trovato E non è vero, Davidino sfortunato No 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 Alla Kazan, bello, bello No 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 Ne abbiamo aperti io, Davidino e Bado Non ne abbiamo trovato uno Ma secondo me allora avete preso un lotto strano Perché ho aperto 10 boost E' molto probabile allora Siamo noi molto sfortunati probabilmente Poi abbiamo quindi Monkey, Meo, Execute, Clefairy, Nido, Queen, Victreebel Palloncino gigante, Clefairy, Reverse, Voltorb E le energie, holo ovviamente Qui ci sono tutte le energie che potete trovare Anche in questa versione olografica Mi raccomando Ricordatevi di mettere un bel like Se il spacchettamento vi piace E se questo tipo di video vi piace Così sappiamo cosa portarvi Ho Tangela, Koffing, Psyduck, Eccans, Omanite, Taurus, Cadabra, Butterfree, Sand Slash E uh Ditto, molto bellino Ditto Una delle altre più belle di Ditto che hanno fatto al momento Allora vediamo un po' Qui ne abbiamo sempre Macho, Porygon, Lactabuzz, Koffing, Primeape Perfiro, Onyx, Clefable Ohhhh Questa è molto molto bella Zapdos EX Alternativat E trasferimento di Bill Bello sto pacchetto Beh diciamo che questo pacchetto Ha abbastanza ripagato la sfortuna che abbiamo avuto in quelli precedenti Queste due sono due piccole bombette Non da poco Non da poco diciamo Dicevamo che in questi pacchetti non si trova molto Ma in teoria In teoria Dicchiano La regia oggi è stata un po' smentita Isos, Dopok, Macho, Goldeen Uh bello Squirtle Full Art Articuno E la energia Acqua Beh Siamo ripagati le TB Diciamo Siamo ampliamente ripagati queste TB Quindi allora abbiamo Tangela Grimer Psyduck Ekans Dragonite Sidra Kabutops Parasect Monkey E Mr. Mime L'ultima energia non era fuori Quindi Beh dai Possiamo prendere forse un pochino di respiro dopo queste due carte molto ficche una dopo l'altra Evie Grimer Widow Zubat Dugong Hitmonchan Seeking Stario Golbat Electrode Va bene va bene Non ci si lamenta Non ci si lamenta Mi raccomando se avete delle richieste particolari potete fare tutte quante A info Thekingofgames.eu Oppure sul nostro sito Thekingofgames.eu Quindi Cubon Volpix Magnemite Caterpie Gloom Dactrio Clefable Venomot Drosi E Venus Reaxe Devo dire Bello TB Devo dire Proprio bello 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 Nulla Non ci si può lamentare Ma Ora Lasciamo in parte questa bellissima pullata Con il nostro Zapdos Che rimane qui E passiamo Alla nostra confezione Con il raccoglitore Facciamo una bella smembrata Questa scatola Oh yes Molto bene Quindi Il raccoglitore Ve lo facciamo vedere un attimino Così Con ovviamente Il laccetto E Le pagine Dentro Con la tecnologia anti-slip Quindi l'inserimento Orizzontale Della carta È molto molto bello Soprattutto per chi Magari Vuole portarselo anche in giro Proprio l'album E Ovviamente E comunque Prendendo questa collezione qua Avete anche Quattro pacchetti di carte Quindi Diciamo che Non prendete solo un album Prendete anche un po' di carte Vediamo se Riusciamo Se si fanno due conti Alla fine l'album Dico che è quasi regalato Perché ovviamente Eh no Più o meno È regalato Sì Allora Elix Fossile Slowpoke Magmar Orsi Cloyster Che era messo Faccio in giù Sighter Charmeleon Squirtle Clefable E Kangaskhan E Kangaskhan Iax Perfetto Buono buono Ha sempre questo modellaccio 3D Che mamma mia Ma Sì però dai Diciamo che alcune di queste Iax Hanno voluto un po' riprendere Dalle Alcune Iax sono oggettivamente Hanno voluto riprendere un po' Dalle vecchie Iax Che avevano fatto al tempo Però Kangaskhan Minimo invece Sì sì assolutamente Akans Cubone Vulpix Io sarei molto contento Di trovare magari un Gastri Ecco un Hunter Per il buon Dottor Marchion Golbat Comiglia sempre ai nostri cuori Nel bene e nel male Comiglia sempre on point Dai dai Che secondo me Abbiamo ancora qualcosina Da poter sbustare In queste Collezioni qua Abra Diglett Rattini Parse Cloyster Carismini Giovanni Dugong Monkey Gengar Abbiamo detto Comiglia Tutta la linea evolutiva Di Gastly È stata fatta Da Comiglia E chi se non lui Poteva farlo Con suo Incomiabile stile Rion Tangela Koffing Psyduck Gravele Alcanine Kingler Onyx Psyduck Bello bello Psyduck così E Mastar Va bene Energia Però Però Anche qua Non ci lamentiamo Non ci lamentiamo Passiamo all'ultimo prodotto Quindi Collezione Pokemon 151 Con il Poster E le promo Ecco E le promo Quindi adesso Vi facciamo vedere Un po' Tutto quanto Abbiamo Quindi All'interno Trovate Questo poster Che è Dual Fass Quindi Double Fass Dual Fass Non so se esista Quindi avete qua Con tutte le sagome Dei 151 Pokemon Presenti Nell'espansione E dietro invece Avete La parte più bellina Che sono tutti I 151 Pokemon In alcuni casi Perché stonano un pelo Ma Vabbè dai Però almeno È un bel quadretto E il resto è tanta roba È veramente un bel quadretto Per chiunque voglia Tenerso Mi dia Mi dia Grazie regia Mi dia Mi dia l'armese Io qua non so Non so piegarlo bene Non mi hanno assunto Per piegare cose Purtroppo Per piegare soldi Sì Allora abbiamo Tre pacchetti E le nostre Tre carte promo Quindi abbiamo La plastica Immancabile Mannaggia A Pokemon Ma va bene Quindi abbiamo Allora Un codicino Che ve lo regaliamo Anche questo E poi abbiamo Le tre promo Di Bulbasaur Molto bellino Squirta E Chornander Molto molto belline Queste qua Ovviamente per fare Il master set Vi servono Assolutamente Quindi E comunque Sono belline Allora Vediamo se anche qua In tre pacchetti Riusciamo a fare Qualcosa di magico Come una nota Squadra calcistica No Il primo pacchetto È stato abbastanza Deludente Vediamo Con Il secondo O se Se teniamo Tutto quanto Per l'ultimo O se abbiamo Dato Fondo A tutto quanto Prima Goldeen Ivisa Boh Giolti Va bene Va bene Comunque Le Evilution Vanno sempre bene Vediamo un po' Nidoran Gastly Paras Voltorb Rion Bend Cos'è Bend Bendardigia Bendardigia Bendarigia 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 Non so cosa sia Insomma anche io E va bene Oh beh L'energia erba Bellina Bellina Ragazzi Tutto sommato Non ci si può lamentare Le nostre belle Bot di fortuna Le abbiamo avute E si può vedere Da questo bellissimo Zapdos Ragazzi Io vi ringrazio Di averci seguito Fino a qui Questi erano tutti I prodotti Che abbiamo disponibili Per quanto riguarda Pokemon 151 Che Come ci si aspettava È una collezione Veramente Top Veramente On point Se riuscite A fare A collezionare Il più possibile Ve lo consiglio Caldamente Io vi ringrazio Per averci seguito Fino a qui Vi ricordo di iscrivervi Al canale E attivare la campanella Degli avvisi Per rimanere Sempre aggiornati Su tutti i video Di The King of Games E ci vediamo Alla prossima Ciao Le squillie Le squillie Le squillie Poi Ovviamente Questa roba qua Loro non vedono Che le buttiamo No Pazza Pokemon Il re dei giochi Pazza 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 Pazza